Le generazioni più anziane avrebbero detto che il problema dell'uomo moderno è fidarsi troppo della tecnologia. Fatto sta che stamattina per l'intera città di Montevarchi si è palesato un problema alle linee telefoniche e al traffico dati fisso e tramite cellulare per l'utenza team. Il tutto è stato causato da un guasto, rottura di cavo, mancato potere trasmittente che di fatto a livello tecnologico in questo settore ha portato la città di Benedetto indietro di almeno 20 anni. Adesso però nel 2016 praticamente qualsiasi attività agisce online il blocco ha creato danni anche a servizi come uffici postali e banche. Il problema annunciato di lunga soluzione ha poi trovato risposta fortunatamente nel pomeriggio avendo rifatto concesso una mattinata di riposo, forzato ma sempre di riposo si tratta, a molti uffici anche se non scordiamocelo oggi era il giorno di scadenza di molte tasse da pagare e in questo senso è difficile pensare che l'erario giustificasse il mancato pagamento con il collegamento inesistente. Di certo è vero che la tecnologia aiuta e rende più semplici e veloci le attività quotidiane ma in un certo senso divenne una necessità senza la quale saremo persi ed è per questo che appunto le generazioni precedenti non hanno tutti i torti sul progresso.